Tragedia sfiorata ieri sera a Nola in piazza Trinchese. Intorno alle 20 una forte esplosione ha fatto tremare le vie del centro storico. In un pub, lo Step 1, probabilmente a causa di una fuga di gas, sono scoppiate le due bombole posizionate nella cucina del locale. A quell'ora, avendo aperto da poco, non c'erano clienti ma solo i due proprietari che quasi miracolosamente sono rimasti vivi. Uno dei due, però, Salvatore Vecchione, ha riportato gravi ferite alle mani e al volto. Soccorso dai passanti che hanno immediatamente allertato vigili del fuoco e 118, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria alla pietà di Nola, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Impressionanti le fiamme sprigionatesi dopo l'esplosione, come ben si nota dai video amatoriali girati con i telefonini che in queste ore impazzano sulla rete. Il rogo ha distrutto l'intero locale, ora inevitabilmente sottoposto a sequestro. Le alte lingue di fuoco hanno anche annerito e danneggiato gli appartamenti posti ai piani superiori della palazzina di Piazza Trinchese. Sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze degli ospedali di Nola e Castellammare di Stabia. La zona circostante è stata interdetta al traffico per diverse ore e la circolazione è stata deviata dai vigili urbani del comando municipale di Nola. Ancora da chiarire la dinamica che ha portato alla terrificante deflagrazione. Tutto sommato, considerate l'entità e le modalità dell'esplosione, il bilancio può considerarsi positivo visto che i due proprietari sono salvi.